I carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Romano in carcere e Michele Esposito agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura di Salerno per furto aggravato in concorso. Secondo l'ipositi accusatoria, il 6 agosto scorso gli indagati si sarebbero impossessati di tre biciclette elettriche ad Atrani, Amalfi e Conca dei Marini. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse, così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.